La 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 Sei il padre di Jay? Esatto. E tu sei la nuova ragazza di Jay. Penso che abbia paura di presentarci. Dovrebbe averne. Anna, ti verso dell'altro vino? Sì. L'hai visto com'era con lei? Nostro figlio è ossessionato. Mi trasmette, non lo so, una strana sensazione. Che, 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 che c'è? Cosa scrivi qui? I miei pensieri, i miei sogni. Momenti che non voglio dimenticare. Sento questo bisogno irrefrenabile di stare con lei tutto il tempo. Io ti amo, Anna. E se scoprisse la verità? In questa storia non puoi esserci soltanto tu. Il matrimonio è questione di fiducia. Non cercare dove lei ti dice di non farlo. Sono sicura che tu hai tutto sotto controllo. Ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Sono pericolosa e le persone traumatizzate... sanno di poter sopravvivere. sent me free.